Conferenza stampa al Partito Comunista sui problemi della chimica. E' stato detto innanzitutto che i comunisti sono contrari alla creazione di un ente chimico che potrebbe rivelarsi un inutile carrozzone destinato ad accogliere soltanto i comparti non redditizi dell'industria chimica italiana, lasciando ai privati la parte sana del settore. Gli esponenti comunisti, Borghini e Macciotta, hanno duramente criticato la politica governativa che ha privato l'industria chimica italiana di una strategia programmatica adeguata, carente di provvedimenti incisivi e priva del necessario coordinamento tra enti pubblici e privati. Secondo il Partito Comunista il nuovo governo dovrà impegnarsi in una politica industriale che tenda a razionalizzare le produzioni, utilizzando leggi e strumenti di programmazione già esistenti per superare la grave crisi che investe soprattutto il mezzogiorno. A tal fine il partito ha deciso di mobilitare i lavoratori del settore e discutere questi problemi con i loro rappresentanti nel corso di un convegno che si terrà il 19 aprile a Milano. In preparazione di questo convegno il PCI avrà incontri sui luoghi di lavoro con i dipendenti delle varie industrie e anche con gli industriali rappresentati nell'Aschimici. Grazie.